Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Qualche problema in A1 per perdita di carico in galleria troviamo rallentamenti tra Sassomarconi e V1 Variante in direzione sud. Per traffico coda verso nord tra V1 Compranare Firenze Nord a 11 e Barberino del Mugello. Caraggia opposta il traffico è rallentato tra Calenzano e Incisa Reggello. Sempre in A1 rallentamenti per traffico verso sud tra V1 Variante e Badia. Ci spostiamo in Fipili dove troviamo rallentamenti per lavori tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze. Possibili disagi sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta. Ricordiamo che fino al 30 maggio tra Montelupo ed Empoli Est per lavori è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con chiusura della carreggiata in direzione mare. Nella meno oltre la chiusura dello svincolo di Montelupo in direzione mare sia in ingresso che in uscita verso Firenze solo in ingresso Fipili. Buonasera, siamo in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.